In questo video ti mostrerò come implementare un metodo per tenere traccia di tutti gli impegni della tua vita, di tutte le cose che ti servono, all'interno di un singolo dashboard di Notion. Implementeremo il metodo PARA, che non ho inventato io, ma è stato inventato da Tiago Forte, l'inventore del Second Brain, e un metodo che lui descrive nel suo libro su Second Brain, su cui ha dedicato un libro non ancora tradotto in italiano, che si implementa facilissimamente, direttamente, senza perdere nulla su Notion. Io sono Alberto Kabbal Svidani, ti do il benvenuto in questo nuovo video di ItalianIndy.com. Con i miei video cerco di aiutarti a rendere la tua vita più produttiva, fare più soldi, vivere senza stress e quindi avere più piacere dalle cose che fai. Parliamo oggi del metodo PARA. Devo un attimino introdurtelo perché c'è un minimo di teoria che poi va implementata in Notion. Se non capisci la teoria è inutile andare a vedere in Notion, ma è semplice. Questo qui è l'articolo sul sito ufficiale di Tiago Forte, in cui lui descrive il suo metodo PARA. L'acronimo sta per Project Area Resource and Archive, che si traduce una volta tanto uno a uno in italiano. Progetti, aree, risorse e archivi. Allora, i progetti sono appunto quelli che puoi intuire come progetti, sono degli impegni a breve termine. Fare un sito web per un cliente è un progetto, fare il web designer non è un progetto, diventare web designer in generale è una cosa che magari dura tutta la vita. Imparare una lingua è un progetto, leggere ogni giorno 5.000 parole non è un progetto. Le aree invece sono responsabilità di lungo termine, lui le chiama, quindi per esempio migliorare la propria salute non è un progetto perché è generico e non è di breve termine, dura tutta la vita, è un'area. È un'area in cui probabilmente poi ci saranno dei progetti, ci saranno delle abitudini, ci saranno degli obiettivi, ma è una cosa di lungo termine che non ha un fine preciso. Le risorse sono tutte quelle cose, i materiali, le idee, le liste, i tool che ti possono servire per lavorare ai tuoi progetti, lavorare all'interno delle tue aree, per esempio le note sui libri che leggi, le liste della spesa. L'archivio è una grande soffitta in cui butti tutto quello su cui non stai lavorando adesso, quello che non ti serve adesso. Quindi se hai un progetto che di colpo viene abortito, non ci devi lavorare più, lo piazzi nell'archivio. Se hai un'area su cui non ti interessa più lavorare, per esempio imparare la musica, imparare uno strumento, lo piazzi dentro l'archivio. Anche le risorse, se ci sono delle risorse che hai usato, che ti servivano, ma non ti servono più, le piazzi dentro l'archivio. In questo modo non butti via niente, però al contempo non tieni davanti agli occhi, non tieni sempre presenti cose che non ti servono, perché l'idea è che questo sistema sia un sistema che ti rende più produttivo e non ti distrae. Quindi in project, area e resource, tra i progetti, le aree e le risorse, tieni solamente le cose che ti possono servire, per ridurre sostanzialmente il carico cognitivo. Adesso andiamo in Notion e vedrai come questa cosa si possa implementare facilmente. In sostanza dobbiamo creare dei database e raggrupparli tutti in una dashboard. La dashboard può essere questa pagina che stai vedendo adesso, intanto lasciamola così grezza, poi al massimo la ritocchiamo, la ristrutturiamo più avanti. E la prima tabella è sicuramente quella dei, o meglio, non dobbiamo trasformare la pagina in una tabella, ma dobbiamo creare una pagina vuota e metterci dentro una tabella. Ecco quindi che ho preparato una semplice pagina vuota che sarà la nostra dashboard e dentro ci inseriamo i database. Allora vado un po' veloce, non ti spiego tutti i comandi che uso, se vuoi il dettaglio massimo su tutti i blocchi, le cose che vedi, in descrizione trovi il nostro corso Capire Notion, che è il corso completo per imparare i fondamentali di Notion. Vado a cercare database e inserisco un database inline, quindi all'interno della pagina. Questo database sarà il database progetti. Ora, i progetti possono avere un milione di caratteristiche. Ti consiglio di andare a vedere il video che ti linkerò in descrizione sulla gestione dei progetti in Notion. Comunque inseriamo qui alcuni elementi interessanti che potrebbero servire nei tuoi progetti. Allora, chiaramente, la prima proprietà è il titolo del progetto, che potrebbe essere creare sito web per cliente X, supponendo che tu realizzi siti web per il tuo lavoro. Vediamo subito che è un po' stretta questa visualizzazione per un database, quindi clicco qui in alto sui tre puntini e poi su full width, quindi larghezza piena, e così il nostro database ha tutto lo spazio che vuole. Cancello la colonna dei, la proprietà dei tag e un progetto cosa potrebbe avere come proprietà? La scadenza, quindi che sarà una proprietà di tipo data, e l'ho chiesto la scadenza. Ok. Poi potrebbe avere una persona, per esempio collaboratore, o un cliente che vorrà vedere o collaborare appunto con questo progetto. E poi una cosa utile nei progetti è lo status. Quindi attiviamo la proprietà di tipo status e gli status sono non partito, oppure da fare, no? Poi in corso e poi finito. Chiaramente a seconda del tipo di progetto potreste avere diversi stati, per esempio nel caso del sito web potreste avere la chiamata col cliente, oppure la bozza del sito pronta, no? Il wireframe pronto. Attenzione che se vuoi usare un unico contenitore per tutti i progetti devono avere degli status condivisibili. Siccome si parla anche di progetti che fanno parte della tua vita, probabilmente la vita non ha uno status, non ha gli stessi status che può avere un progetto di creazione siti web. E qui c'è il limite di questi sistemi tutto in uno, perché se tu vuoi avere un unico contenitore per tutti i progetti di lavoro e vita, chiaramente devi fare qualche compromesso. Alcune proprietà potrebbero appartenere solamente ai progetti di lavoro e alcune proprietà potrebbero appartenere solo ad alcuni progetti di vita. Quindi nel momento in cui ti trovi a dover differenziare le cose rischi di fare confusione e di perdere quella linearità che ti fa adottare un sistema uniforme. Una soluzione potrebbe essere all'interno di progetti usare più database, uno per per esempio i progetti nella vita e uno per i progetti come professionista, oppure se hai più professioni, se hai più tipologie di progetti potresti usare un database per ogni tipologia di progetto. Chiaramente capisci che questo comincia a complicarsi. Adesso rimaniamo sul generico. Ti ho spiegato un attimo per andare più nel dettaglio. Intanto supponiamo che la tua vita sia più semplice e che tu possa avere dei progetti con pochi status, come vedi qua, e quindi poter usare un singolo database per tutti i progetti. Poi potresti aver bisogno di altre proprietà come per esempio la data di partenza, quindi un'altra data e qui mettiamo inizio, chiamo inizio, ok, oppure eventualmente la priorità, se usi diversi livelli di priorità. Fermiamoci qui. Trovi tutte le proprietà che ti servono per descrivere i tuoi progetti. Poi se vedi il video sulla gestione dei progetti che trovi linkato in descrizione, per esempio potresti linkare un database di task per ciascuno di questi progetti, a seconda di quanto vuoi complicare le cose. Ora lasciamo qui dentro un solo progetto per il momento. Questi progetti dovranno finire all'interno delle tue aree, quindi aggiungiamo un database sempre in line e lo chiamiamo aree, ok? Qui mettiamo in italiano nome, i tag non ci interessano e quindi cancelliamo questa proprietà, ok? Queste aree sono spazi più generichi, non ci saranno tanti elementi dentro questo database e saranno per esempio famiglia, lavoro, salute, chiamiamo volontariato per esempio, ecco lasciamo questi quattro. Queste potrebbero essere le tue aree, poi non hai bisogno di aggiungere granché, anzi probabilmente questa visualizzazione a tabella è un po' superflua, ma ne parliamo tra un attimo. Quello di cui però hai bisogno è una connessione tra i progetti e le aree, perché ogni progetto apparterrà a una sola area, di conseguenza se usi già Notion avrai intuito ci serve una relazione, i collegamenti tra database in Notion si chiamano relazioni. Quindi clicchiamo più, adesso lo metto nel database progetti ma in realtà si potrebbe fare anche nel database area, vedrai che comparerà in entrambi i casi e clicchiamo su relation, quindi una proprietà di tipo relazione, lo mettiamo in relazione col database aree, mettiamo, attiviamo questa opzione qui che si chiama mostra su aree, quindi mostra questa relazione anche nel database aree e clicchiamo su add relation. Quindi abbiamo nel database progetti una proprietà di relazione collegata ad aree e nel database aree una proprietà di relazione collegata a progetti, che rinomineremo perché qui si deve chiamare area, perché un progetto è collegato ad una area, non a più aree, e qui si chiama progetto. C'è un'altra cosa da controllare, se io apro le opzioni di questa proprietà, della proprietà area, quindi cliccando qui e poi su edit property, ho bisogno di imporre un limite, voglio che ogni progetto faccia parte di una sola area, quindi clicco qui e metto one page. A questo punto quando clicco qua posso scegliere un area per questo progetto, quindi creare sito web è l'area lavoro. A questo punto, se conosci un po' Notion lo sai, trovo che in questa riga c'è un solo, è assegnato il progetto, quindi all'area lavoro è assegnato il progetto creare sito web per cliente X. Se poi creo un altro lavoro, creare logo per cliente Y. Vado qua e scelgo come area lavoro. lavoro. E qua c'è un problema, eccolo qua. E da questa parte invece ci sono due progetti elencati sotto l'area lavoro, giustamente perché qui non ho imposto il limite, qui c'è scritto no limite, quindi un numero infinito di progetti può far parte dell'area lavoro o di qualsiasi area ovviamente. Vi dicevo che avere questa visualizzazione così in tabella non è molto utile nel caso delle aree, quindi qui per esempio potrebbe essere interessante un layout a galleria. Ok? Perché sono pochi elementi e non ho bisogno di vedere numerose proprietà. A questo punto io posso andare dentro famiglia e cambiare per esempio la copertina e scrivere, andare su unsplash e cercare midi e mettere questa foto qui, magari sarebbe bella anche una foto della tua vera famiglia e voglio mostrare la cover come copertina qui. Quindi vado sui tre puntini, clicco su layout, clicco su card review e invece di page content vento page cover e vedi che ha mostrato qui la foto che ho scelto come cover. Qui su lavoro faccio la stessa cosa, vado su ad cover, change cover e scelgo work oppure job e vabbè qua dipende poi da che lavoro fai chiaramente e ha caricato la copertina anche qua. Faccio lo stesso anche per il resto. Di solito non mi soffermo su questi dettagli estetici ma in questo caso siccome stai creando un colpo d'occhio, una dashboard che avrà tante cose dentro, ha senso soffermarsi un attimino. E tra l'altro poi i titoli dei database che vedi qui e qui portano via un po' di spazio. Una cosa bella da fare è nascondere il database e usare invece il titolo della view e quindi chiamare questa view progetti e quest'altra invece chiamarla aree. Ok? E quindi vedi lo stesso titolo o altrimenti scrivo tutto maiuscolo per renderlo più legibile. Ok, quindi abbiamo i nostri progetti e le nostre aree. Se vado dentro un'area, adesso che sto usando la realizzazione gallery, vedi che ho i progetti elencati qui come una proprietà, anzi è meglio andare in lavoro dove avevo messo un po' di... Vedi? Una cosa simpatica è che questa proprietà, la proprietà progetto, posso mostrarla come page section e così mi ritrovo la lista dei progetti in cima alla pagina, come una sezione della pagina. Tra l'altro posso anche poi visualizzare alcune proprietà, vedi, dei progetti. Al momento non l'ho associata. Invece che come una singola riga della proprietà, che chiaramente è più simpatico. Poi se voglio, posso abbellire anche questa cosa e per esempio aggiungo un'icona sul sito web, vado a cercare web, facciamo questa. Se torno su lavoro, vedi che la pagina creare sito web ha a sinistra l'icona che ho scelto. Ok, ho creato le aree. Adesso qual è la prossima lettera nell'acronimo? La prossima lettera è risorse. Qui la situazione può diventare un po' complessa perché devi inserire... Le risorse possono essere di tutto. Possono essere, come ti dicevo, la lista della spesa, può essere una lista di libri che ti piacciono, può essere il database delle note o degli articoli che cattori dal web. Come fai a modellare tutte queste cose all'interno di un database? Perché innanzitutto ci serve un database, un altro database e lo mettiamo in line. Visto che ci siamo, nascondiamo il titolo e rinominiamo la view come risorse. Il discorso è, almeno questa soluzione l'ho trovata sul web e in realtà l'ho usata anch'io prima di trovarla sul web, crei un database in cui cominci a salvare le risorse che ti servono. Man mano che si formano nuove esigenze, aggiungi nuove proprietà. Poi, a seconda del tipo di risorsa, alcune proprietà le userai e altre no. Cosa intendo? Allora, il nome rimarrà il nome. Qua non ci casca. Poi crei una proprietà di tipo select, non multi-select, e la chiami tipo e questa ti indicherà di che tipo è la risorsa. Quindi, per esempio, se mettiamo un libro, quindi titolo libro, rimaniamo sul generico, il tipo sarà libro. Se mettiamo un articolo scientifico, quindi titolo articolo scientifico, non vado a inventarmi il nome di un articolo scientifico, il tipo sarà articolo scientifico. Poi ci sarà magari un articolo blog, titolo articolo blog, qui metterai il titolo dell'articolo di un blog, e qui metterai il tipo blog. A un certo punto avrai una manciata di tipi, dieci, non saranno tantissimi, che ti permetteranno di identificare la tipologia delle risorse che hai salvato, anche se hai salvato risorse totalmente diverse. E quindi, eventualmente, di usare i filtri, no? E per filtrare in base al tipo è vedere solamente i libri, oppure solamente gli articoli scientifici, eccetera, quando ne hai bisogno. Poi, una cosa obbligatoria è una relazione, una relation, quindi una proprietà che mette in relazione questo database con i progetti, perché ogni progetto avrà bisogno di alcune risorse. Quindi lo mostro anche in progetti, è la stessa procedura che ho fatto di là. Quindi adesso aggiungo la relazione, qui in risorse è comparsa la relazione progetti, e poi se salgo, pagina, in progetti, è comparsa la relazione untitled database, che sarebbe risorse. Qui non devo mettere il limite di uno, perché effettivamente potrebbe capitare che lo stesso articolo di un blog mi serva in più progetti, e che chiaramente un progetto avrà bisogno di più risorse. Poi, volendo, potresti associare, collegare anche le risorse alle aree, oppure avere le risorse associate ai progetti, e poi risalire all'area dal progetto. Così non devi associare due cose separate. Quindi quando crei una risorsa, la associ ad un progetto, oppure quando una risorsa ti serve in un progetto, la associ al progetto stesso, ma non devi anche pensare a mettere l'area. In ogni caso, grazie alla magia delle relazioni e dei roll-up, in Notion possiamo automatizzare questo passaggio. Magari non ti è indispensabile sapere a quale area appartiene una risorsa, però, volendo, tu puoi fare questa cosa qui. Puoi andare a creare un roll-up, quindi una proprietà di tipo roll-up, ok, eccola qui. Poi andiamo a selezionare a quale relazione questo roll-up si applica. Sostanzialmente i roll-up sono delle formule che applichi alle relazioni. Lo applico all'unica relazione presente, progetti, e cosa faccio? Estraggo, la applico ad una proprietà che si chiama area, quindi applico il roll-up sulla relazione ai progetti, ed è alla proprietà dal database progetti che si chiama area e come formula semplicemente mostro l'originale. Quindi, attenzione, chiamiamola area, questa proprietà ovviamente. Quindi, se io per esempio ho un libro che mi serve, che si intitola Come progettare siti web, ed è un libro, mi servirà nel progetto creare sito web. Quindi ci associo il sito web. E di colpo, qui mi è comparsa l'area a cui appartiene il progetto creare sito web. E questo è il bello di usare Notion quando cominci a piazzare dentro il roll-up e le formule, puoi fare cose abbastanza fantascientiche. Questo per quanto riguarda le risorse. Poi potresti avere bisogno di altre proprietà, come ti dicevo un attimo fa, del libro potresti aver bisogno di una proprietà di tipo testo che è il nome dell'autore che potrebbe poi essere interessante anche per l'articolo scientifico. A quel punto sarebbe autori, per sicurezza. potresti avere bisogno della data di pubblicazione. Potresti aver bisogno di una checkbox che ti dice se l'hai già riassunto, perché il modo migliore per assorbire la conoscenza è riassumere le fonti. E allora aggiungi una checkbox che ti dirà se hai riassunto. Potresti avere bisogno di uno status che ti dice se l'hai già completato oppure se invece sei ancora in corso di lettura. Adesso non vado a mettere tutte le proprietà. Il discorso è che tu aggiungi le proprietà che ti servono man mano e poi magari la proprietà data di pubblicazione ti interesserà per l'articolo scientifico o non ti interesserà per il libro o per un film che aggiungi. O magari qui nelle risorse vorrai inserire la lista della spesa perché ti serve per un progetto, la lista degli acquisti da fare che non c'entra niente con i libri o le altre risorse. Però ha senso se vuoi razionalizzare il tutto e tenere tutto in un singolo database. Sostanzialmente quando, ti ripeto, vuoi usare questi sistemi tutto in uno devi sempre scendere a compromessi o inserisci dei dettagli che vengono applicati a certi elementi e altri no oppure ti rinunci a certi dettagli. Abbiamo trattato le risorse adesso bisogna trattare l'archivio. L'archivio è una cosa molto interessante non è un nuovo database ma attenzione aggiungeremo in ogni database una nuova proprietà che è una proprietà di tipo checkbox che si inserisce da qui e l'ho inserita anche prima. Inseguiamo la checkbox la chiamiamo archivio. In sostanza quando spuntiamo questo archivio questa proprietà l'elemento andrà archiviato altrimenti è un elemento attivo e in ognuna di questi database andremo a inserire un filtro in cui andiamo a filtrare in base a archivio e mostriamo solamente le attività unchecked quindi quelle non archiviate. Quindi nel momento in cui finisco per esempio questo progetto clicchio su archivio lui sparisce perché l'ho finito. anche un'area potrebbe essere archiviabile come ti dicevo prima quindi aggiungiamo anche qui una checkbox e la chiamiamo archivio e aggiungiamo anche qui un filtro perché anche se è una layout di tipo gallery possiamo filtrare in base ad archivio e mostriamo unchecked. Stessa cosa come potrai intuire anche per vado veloce perché è la stessa cosa anche per le risorse clicco su archivio creo un filtro e filtro in base alla proprietà archivio e mostro unchecked. Quindi se questo non serve più clicco su archivio per esempio. Ora però non sto vedendo le cose archiviate per fare questo creo una pagina extra e la chiamo archivio qui dentro piazzerò i database linkati e filtrerò la view sembra un po' complesso adesso ti faccio vedere di cosa si tratta. Devo andare a tornare indietro in sostanza torno indietro al mio dashboard e clicco su questi tre puntini e vado a copiare il link a questa view vedi copy link to view poi torno nella mia pagina archivio e incollo control v e inserisco create linked view quindi qui sto vedendo la view che c'era anche dall'altra parte in questo caso forse mi conviene mettere la pagina a larghezza intera come potete vedere prima qui c'è il il database e qui posso applicare un filtro diverso ok allora qui sto vedendo le cose ceccate quindi le cose archiviate diciamo spuntate qui invece sto vedendo le cose non spuntate vedi che qui non c'è la stessa cosa la faccio per il resto quindi faccio rivedere così ti abitui clicco i tre puntini clicco su copy link to view vado su archivio qui sotto incollo il link clicco sulla prima opzione vado sul filtro cambio e metto check quindi qui si vedono solamente le aree archiviate poi vado giù e risorse di nuovo copio il link alla view vado dentro archivio incollo creo una view linkata oh mi ha perso la situazione ecco qua e vado a cambiare il filtro archivio checked quindi qui vedo solamente le risorse archiviate questo è il metodo para ora volendo potrei andare un attimo a bellirlo per esempio disponendo le cose su colonne ma quello dipende un pochino dai tuoi gusti ho creato un video apposito per rendere più estetiche le tue pagine su notion che trovi linkato qua sopra e quindi puoi applicare le lezioni da quel video qui se vuoi rendere più bella la tua dashboard del metodo para puoi trovare il template di questo che hai visto in questo video cliccando in descrizione lo potrai scaricare gratuitamente inserendo la tua email se hai qualsiasi domanda mettila nei commenti e soprattutto se il video ti è stato utile ricordati di cliccare mi piace di iscriverti al canale così non perderai i prossimi video algoritmo permettendo ci vediamo al prossimo video ciao